ciao a tutti benvenuti ad un'altra live qui sul canale di credi nella tua storia dove tratto ogni lunedì alle 8 di self publishing auto editoria e scrittura oggi voglio parlarvi di un tema che mi sta particolarmente a cuore e ho intitolato questo episodio opportunità e sfide della scrittura di romanzi brevi vi spiegherò che cosa intendo per romanzi o storie brevi e in questo episodio vi spiegherò per quale motivo con dati alla mano e numeri alla mano per quale motivo potrebbe avere senso per voi considerare almeno la pubblicazione e la scrittura di storie o romanze brevi quali sono i vantaggi specialmente se state pubblicando indipendentemente e vi porterò dei casi specifici che possono davvero farvi dire quali sono i vantaggi per un autore indipendente di pubblicare questa particolare specifica categoria di storie quindi pro e contro a rispetto a pubblicare romanzi lunghi prima di farlo però vi ricordo come faccio ormai da alcune settimane che ho iniziato una nuova mailing list di autore in italiano se siete interessati potete iscrivervi e potete iscrivervi cliccando il primissimo link di questa della descrizione di questo video e se vi iscrivete ricevete due storie gratuite in italiano una si chiama melodia spaziale un racconto di fantascienza e l'altra è un racconto fantasy non è una fiaba ambientata nel mondo di capuccetto rosso quindi se siete interessati a fantascienza o a quello che ho da dire io su a volte self publishing e marketing potete iscrivermi a quella newsletter voglio ricordarvi anche che le persone che si iscrivono alla mia newsletter sono trattate molto bene nel senso che di solito non rispondo a domande su self publishing marketing o dubbi che le persone hanno riguardante questi temi su altre venue però se siete degli iscritti alla mia newsletter ho un occhio di riguardo per voi insomma quindi se siete interessati cliccate il primo link di questa descrizione di questo video e iscrivetevi senza ulteriori indugi voglio andare a parlare del tema di oggi e del motivo per cui credo sia davvero importante opportunità e sfide della scrittura a di romanzi brevi alcune definizioni prima di tutto che cosa intera intendo io per voi romanzi brevi o storie breve c'è una categoria che vi farò adesso e che voglio che sia chiara perché è importante il numero di parole che intendo quando mi riferisco una novelletta una novella una storia breve ci sono prevalentemente io le chiamo in quattro classi di sezioni per quanto riguarda storie brevi la prima classe la fiction flash o flash fiction in inglese che sarebbero meno di mille parole quindi un racconto una storia di meno di mille parole si racchiude nella prima categoria fiction flash o flash fiction in inglese una storia breve è diversa da una flash fiction perché è un racconto dalle mille parole alle 7500 parole quindi quando parliamo di storia breve vi parlerò di storia breve intendo questa categoria di storie da mille a 7 a 7500 la terza categoria a di storie brevi è chiamata novelletta in questo caso possiamo anche cominciare a parlare di romanzi brevi o brevissimi a una novelletta è dalle 7500 parole fino alle 17500 alcuni dicono 19 mila quindi poco meno di 20 mila parole una novella invece a questo dipende molto dal genere che stai scrivendo perché una novella romance può avere una lunghezza diversa da una novella di un fantasy però generalmente qualsiasi racconto a breve romanzo breve che vuole essere iscritto in questa categoria di novella solitamente si intende qualsiasi cosa dalle 17500 parole o 19 mila parole fino alle 40 mila parole perché dopo in generale ancora una volta si parla di full length novel quindi romanzi veri e propri i dati di cui parlerò i numeri che farò sono dati sostanziali e presi da kylitix che è una delle fonti più affidabili per quanto si tratta di percentuali e di numeri che interessano il kindle store quindi kylitix e molte delle informazioni di cui parlerò in questo video sono riprese da una masterclass a cui io ho visto il replay partecipato tenuta da una autrice indipendente canadese qui che è anche una mia collega tra le altre cose si chiama cj hunt che ha parlato davvero bene del motivo per cui gli autori dovrebbero cominciare a interessarsi davvero a questa classe di romanzi brevi di storie brevi perché davvero ha un mercato interessante il mercato sta crescendo esiste un mercato molto specifico per storie brevi e romanzi brevi su amazon mi tratterò qui su amazon us quindi stati uniti che è più grosso quindi dati e le cose di cui parlerò si rifanno a questo store in particolare ma possono anche essere applicati agli altri store quindi amazon italia su amazon us non solo c'è un mercato specifico quindi ci sono autori alcuni che scrivono esclusivamente romanzi brevi ma ci sono anche persone che comprano voracemente questo tipo di storie quindi storie breve novelletta novelle storie che non sono dei romanzi lunghi ma sono delle storie brevi una cosa che è importante da considerare ogni volta che vi parlerò di storie breve di novelletto di novella anche se corte le storie di cui vi parlo devono essere delle storie complete quindi con un inizio uno svolgimento una fine devono avere un finale che ha senso quindi quando vi parlo di una novelletta vi parlo di un magari un racconto di 8000 parole quindi corto di per sé però che ha un inizio e una fine quindi questo è importante da considerare perché voi state dando a quel lettore un'esperienza e se noi date o non le date un prodotto finito ovviamente l'esperienza non è delle migliori come possono essere utilizzate queste storie breve per quale motivo voglio farvi presente l'importanza che possono avere e io mi scordo sempre di dirvelo ma se avete delle domande anche mentre sto parlando fatemele sulla sezione chat per quale motivo quindi possono essere utili per due ragioni principali ce ne sono diversi ma ne parlerò soltanto di due la prima è che ovviamente possono essere vendute quindi potete farci dei soldi e vi parlerò anche della potenzialità da questo punto di vista per quanto riguarda storie breve ma una storia breve può anche essere trattata come un asset di un'altra tipologia può essere utilizzata come quella che qui in anglosassolandia chiamiamo mailing list cookie quindi una specie di premio biscottino il motivo per cui una persona dovrebbe iscriversi alla vostra newsletter quindi potete dargli una storia breve una novelletta o una novella invece che un romanzo vero e proprio in cambio del loro indirizzo e mail e quello che avete visto ho fatto all'inizio di questa live a quelle due storie una è una storia breve un'altra è una novelletta a quelle due cose sono due cookie che io do gratuitamente alle persone che si iscrivono alla mia newsletter in italiano in cambio del loro indirizzo e mail quindi quello è un esempio di come possono essere utilizzate storie breve quindi possono essere vendute o possono essere date gratuitamente in cambio di qualcosa poi possono essere anche utilizzate per avere pareri magari non sono mai pubblicate però ci sono queste due secondo me grandi tipologie di utilizzo per quanto riguarda una storia breve o un romanzo breve per quale motivo secondo me è importante per uno degli autori che mi sta vedendo considerare se non l'hanno mai considerato scrivere delle storie brevi e questo vale sia per persone che già hanno scritto magari diversi romanzi sia e forse maggiormente per persone che non hanno scritto nulla non hanno pubblicato nulla o che hanno pubblicato pochi libri e devono stanno ancora scoprendo che cos'è che veramente l'interessa che cos'è che li fa alzare la mattina e gli fa o le fa scrivere delle storie scrivere corto infatti è quella che io definisco definisco una palestra di scrittura per sperimentare potete provare cose nuove e potete anche sviluppare un certo tipo di mestichezza in tutte le branche dello storytelling potete sperimentare per quanto riguarda la trama potete sperimentare per quanto riguarda i personaggi le ambientazioni i dialoghi voi potreste anche dirmi va bene posso sperimentare anche in un romanzo la differenza fra una storia breve e un romanzo ovviamente nella lunghezza quindi assolutamente potete sperimentare in un romanzo ma allo stesso tempo dovete rendervi conto che ci vorrà più tempo per finire quel lavoro mentre con una storia breve o un romanzo breve il flip la quantità di tempo di energie che richiede scrivere una storia breve molto minore rispetto a un romanzo o una full length nova sperimentare è sempre meglio secondo me farlo per quanto riguarda lavori corti utilizzare lavori corti è più facile io lo sto facendo l'ho fatto da ormai metà anno ho scritto una storia breve un romanzo breve al mese per i precedenti sei mesi e l'ho visto in ognuno di questi romanzi a storie brevi ho provato cose diverse per quanto riguarda lati diversi dello storytelling quindi sulla trama dei personaggi ed è una cosa che ovviamente non avrei potuto fare su base mensile se volevo scrivere un romanzo perché scrivere un romanzo è molto più complicato un altro vantaggio che può essere utile considerare per voi autori per quale motivo scrivere romanzo storie brevi è che c'è un vantaggio nel provare a scrivere cose diverse corte specialmente se per esempio stiamo lavorando un progetto grosso o siamo tra due progetti molto lunghi magari tra due romanzi quindi io so di persone che magari hanno scritto un romanzo di centomila parole sanno che dovranno scrivere un altro romanzo di una lunghezza simile ma nel momento nel mentre tra questi due progetti solitamente si concentrano su sperimentare con facendo storie brevi quindi scrivendo storie brevi è una sensazione rinfrescante ovviamente perché sapete che non dovrete cercare di sottomettere un altro titano quindi un altro romanzo ma potrete in realtà provare avere un pochino più di serie sarà una cosa è una cosa più facile per voi poter lavorare su un progetto che è molto più piccolo e molto più contenuto rispetto a progetti più grossi quindi sto parlando adesso con autori che hanno già pubblicato magari su variati romanzi e vogliono provare cose diverse e io questa è una cosa che ho fatto provare a scrivere storie brevi tra progetti più grossi è rinfrescante è rinvigorente anche perché vi permette di liberarvi la mente un pochino di provare cose diverse di vedere cosa davvero potete fare per quanto riguarda questo tipo di esperimento e se non va bene comunque sia si tratta si tratta di una storia breve magari di una novelletta quindi anche se non va nel modo in cui voi pensavate è un esperimento che è stato fatto lo mettete da parte e non è come una cosa a cui avete dedicato mesi oppure anni oltre a questi vantaggi svolti dal punto di vista strutturale del perché scrivere una storia breve secondo me può essere importante interessante per un autore ci sono anche dei vantaggi più puramente tecnici e anche monetari e voglio parlarvi anche di questi adesso rispetto anche a quelli più puramente strutturali una delle cose che crystal che è la presentatrice della master class sulle storie brevi a cui ho assistito ha detto è che scrivere storie brevi e pubblicare ovviamente più velocemente rispetto al romanzo per le ragioni che ho dato è un modo interessante per ricordare al vostro pubblico che esistete che cosa significa questa cosa qua vuol dire che quando voi nel momento specialmente in questo momento nel 2020 l'attenzione delle persone è molto più sparsa è molto più difficile che una persona si concentri su una cosa per un momento molto lungo diciamoci una storia breve è la dare la possibilità un lettore di finire qualcosa in una seduta questo può essere un vantaggio per autori che vogliono basare o hanno deciso di sperimentare per quanto riguarda la scrittura di storie brevi pubblicare più velocemente lavori quindi magari invece di uno libro ogni due anni un libro all'anno magari pubblicare tre o quattro o cinque o sei lavori all'anno ci sono molte persone che fanno questa cosa qui può essere un modo interessante per mantenere l'attenzione del pubblico che vi segue e un altro vantaggio che questa strategia può dare oltre all'interessare a mantenere interessati i vostri followers è quello che le nuove uscite hanno un valore maggiore per amazon e si sa che ci sono tre periodi periodo di 30 giorni dopo la pubblicazione 60 giorni dopo la pubblicazione 90 giorni dopo la pubblicazione di un lavoro su amazon in cui amazon tratta quel lavoro come nuovo quindi dal punto di vista di una promozione organica lo tratta è un po meglio che un lavoro che è stato magari pubblicato tre o quattro anni fa quindi gli autori che seguono questa strategia che pubblicano magari quattro storie all'anno quindi magari distanziale nel tempo da due o tre mesi hanno una potenzialità maggiore di avere una visual visibilità scusate visibilità diversa e più potenziata e questa è una cosa che ha visto anche la autrice di cui parlavo crystal non solo ricordate maggiormente alle persone che esistete perché ogni due o tre mesi o quattro mesi potete uscire con un nuovo lavoro quindi loro ovviamente a si ricordano questa è una persona che pubblica ogni quattro mesi invece che ogni quattro anni come altri autori ma c'è anche il vantaggio che amazon promuove lavori nuovi in modo diverso rispetto a lavori che sono nello kindle store da anni un altro vantaggio monetario per quanto riguarda la scrittura e la pubblicazione di di una storia corta è che pubblicare una storia corta costa di meno rispetto a un lavoro più lungo come un romanzo vero e proprio per quale motivo perché ovviamente se state scrivendo una novella da 20 mila parole invece che un romanzo da 80 mila o 100 mila l'editing costa di meno perché ci sono meno pagine da correggere se volete fare un audio book l'audio book costa molto di meno a produrlo perché dipende dalla lunghezza ovviamente del libro per esempio una una persona come crista questa autrice vi parlavo lei ha pubblicato a poco più di una decina di novellette scusate di novelle quindi circa 20 25 mila parole e poi ha deciso di fare un esperimento e di pubblicare degli audio book di queste novelle invece che spendere tre mila o quattro dollari per la produzione di questo audio book lei ha speso 500 dollari quindi tre o quattro volte anche cinque volte meno rispetto al costo di un romanzo quindi costa di meno però qui c'è una piccola eccezione da fare la copertina costa lo stesso perché i designer specialmente se stai commissionando un designer vogliono essere pagati allo stesso modo perché la copertina di una novelletta di una novella di un epic fantasy è comunque la copertina che vedono dello stesso formato che vedono i lettori su uno store come amazon e costa esattamente lo stesso quindi a parte la copertina tutti gli altri costi editing produzione l'audio book cose di questo genere costa di meno quindi un'altra cosa da considerare poi c'è una cosa interessante che diceva crystal in questa master class ed è una cosa su cui in realtà non avevo mai pensato davvero fino a quel momento molti autori hanno problemi anche grossi ovviamente a fermarsi ed hanno dei problemi perché scrivere un romanzo non è una cosa facile assolutamente e ve lo dico io che hanno scritti una mezza dozzina in due lingue diverse qual è il vantaggio dello scrivere lavori brevi come novellette novelle che sono più facili da scrivere e che una volta che l'avete scritto avete pubblicato avete un lavoro lì fuori e nessuno può toglierlo quindi diciamo che magari voi riuscite a pubblicare un romanzo ogni due anni però provate questa strategia del scrivere un romanzo breve una storia breve una novelletta per un anno e vedete che a riesco a scrivere tre o quattro quelli sono tre o quattro lavori che voi avete lì fuori che lettori possono vedere possono comprare invece che zero quindi invece che aspettare un anno avere zero prodotti voi lavorate e in un anno avete tre o quattro cinque prodotti nel mio caso io ho già sei prodotti diversi perché ho pubblicato sei storie diverse in queste passati sei mesi domani in realtà pubblicherò la sesta questo tutto questo che cosa significa c'è una cosa importante dal punto di vista di psicologia che molte persone non considerano specialmente autori e questa è una cosa che ho visto accadere molte volte non è una cosa scientifica ma è una cosa che ha confermato anche christa nella sua master class i lettori o molti dei lettori non prendono sul serio un autore se non ha dai tre ai cinque lavori lì fuori ora questo non è vero sempre e comunque specialmente se stiamo parlando di autori instablish della legacy publishing o di una persona che pubblica con una casa editrice tradizionale questo non è sempre vero però seguitemi in questo ragionamento perché è molto importante se voi avete un sito internet e avete la vostra biografia e zero lavori una persona oltre a leggere la vostra biografia non può fare nulla se voi avete tre quattro cinque lavori già lì una copertina una sinossi magari delle recensioni delle vendite un lettore vi prende più sul serio e vi vede come più una persona affermata voi avete degli asset su quel sito internet voi avete una prova che siete un autore che fa sul serio che non è che soltanto parla e dice sto scrivendo questo epic fantasy ma siete un autore che dice ho scritto una serie di novellette magari di tre quattro novellette e sta qui la potete vedere potete comprarla potete giudicarla quello è un asset che può darvi visibilità e ovviamente può anche darvi dal punto di vista monetario un ritorno economico se vendete dei libri questa è un ragionamento che non potete fare se voi non avete dei prodotti quindi quello che crystal dice è che un lettore vi prende davvero sul serio quando vede su quel sito internet dai tre ai cinque prodotti una cosa che posso dirvi io personalmente che ho sperimentato all'inizio del 2020 avevo zero lavori sul mio sito internet in inglese a parte lord of time che è l'unico romanzo in inglese che ho pubblicato in anglosassolandia l'unico che ho scritto in inglese e pubblicato in inglese oggi a sei mesi dal inizio del 2020 ho sei prodotti diversi sei copertini diverse con sei sinossi diverse la visibilità del mio sito internet è aumentata non solo perché posso dire alle persone guardate non è che ho una o due storie ne ho mezza tuzzina guardate andate a vedere se siete interessati ma anche perché una persona che va sul mio sito internet adesso la prima cosa che vede è una pletora diversa di storie diversi generi e può selezionare quella che lì le o gli piace di più questa è un'operazione che io non potevo fare prima e ho avuto dei riscontri anche dal punto di vista di visibilità che va al di fuori della pubblicazione semplice di storie o della visibilità sono stato per esempio invitato ad eventi perché avevo una presenza internet un pochino più established stabilita in anglosassolandia questo vostro vi posso garantire che da un effetto diverso ad un potenziale anche lettore perché questa persona vede che siete un autore che fate sul serio che fa sul serio e ancora una volta non voglio dire che se siete davvero impegnati in un romanzo lungo vero e proprio quindi sia una strategia sbagliata non lo è assolutamente no però se state combattendo per cercare di far uscire quel secondo romanzo primo romanzo vi invito a provare allo scrivere dei lavori un pochino più corti a vedere se riuscite a pubblicarli e magari metterli lì e vedere che cosa succede in termini di visibilità più lavori avete più possibilità avete che lettori li prendano e ne parlino ad altre persone questa è una cosa che è successa anche a me non posso legarlo quindi crystal dice ci vogliono dai 3 5 libri per lettori per cominciare a prendere sul serio un autore perché loro si fanno la domanda mi conviene investire tempo e attenzione su questo scrittore qui quanti lavori ha la sua serie è completa ne ha se ne ha una ha scritto altre cose se per esempio questo libro qui che vado a leggere mi piace ovviamente la risposta è no se avete un libro soltanto due libri soltanto se ne avete svariati un lettore può andare da uno all'altro facilmente e ancora una volta questo voglio sottolinearlo è una cosa che è successa anche a me per questo ve lo sto dicendo perché voglio che questa cosa qui sia più trasparente possibile ora 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 veniamo ai dati di cui vi parlavo e che vi promettevo perché sto stressando tanto su l'importanza delle storie brevi per quanto riguarda anche non solo l'importanza strutturale del imparare a scrivere storie e della visibilità ma anche per quanto riguarda il profitto per quanto riguarda il versante monetario tutto inizia dal modo in cui kindle è strutturato per ricevere storie brevi che tratta in una categoria completamente diversa rispetto ai romanzi completamente diversa questa è una cosa che io non sapevo prima kindle us in questo momento nel momento in cui sto parlando a sei diverse categorie dedicate solo ed esclusivamente alle letture corte o brevi di romanzi brevi storie brevi quelli di cui vi parlavo novellette novelle storie brevi in queste categorie voi non potete richiedere di entrare i vostri libri devono necessariamente rispettare una certa lunghezza di stampa per entrare automaticamente in queste categorie quindi ci sono delle regole che vanno rispettate se volete entrare in queste categorie e vi dirò poi per quale motivo è importante entrare in queste categorie per adesso vi descrivo soltanto queste questi sei modi per poter far entrare il vostro libro vostra storia breve in una di queste categorie la prima categoria sono messe nelle letture che si finiscono in 15 minuti o meno quindi sono solitamente delle storie da una pagina 11 pagine la seconda categoria di storie sono quelle lette in 30 minuti o meno che sono dalle 12 alle 21 pagine la terza categoria sono le storie che vengono lettere in 45 minuti o meno quindi dalle 22 alle 32 pagine quarta categoria storie che si leggono in un'ora o meno quindi dalle 33 pagine alle 43 pagine la quinta categoria è quella delle storie che si leggono in 90 90 minuti o meno quindi da 44 a 64 pagine e l'ultima categoria la categoria di storie più lunghe di queste sei è quella che si legge storie che si leggono in due ore o meno quindi da 65 pagine a 100 pagine più o meno ancora una volta questo è una cosa che il numero di parole che vi dirò adesso non è scolpito nella pietra però se voi avete scritto una storia di meno di 25 mila parole potete rientrare nella in una di queste sei categorie ovviamente dovete stare attenti perché le 25 mila parole si riferiscono a tutto il testo del kindle quindi alla front better back matter alla biografia all'introduzione quindi tutto quanto il lavoro deve essere minore di 25 mila parole per quale motivo è importante per voi sapere queste cose qui perché se state progettando di scrivere una storia breve pubblicarla in kindle us e scrivete 101 pagine di questa storia voi siete trattati come l'epic fantasy di brandon sanderson e voi non volete una cosa del genere se volete competere in queste categorie quindi dovete stare estremamente attenti per quanto riguarda la lunghezza per quanto riguarda me qualsiasi delle sei storie che ho scritto fino adesso a fine di giugno 2020 potrebbero rientrare in una di queste categorie se le pubblicassi su kindle us quindi tutte quante le storie che ho scritto sono meno di 25 mila parole una è di 3 mila parole un'altra è una scritta di 5 mila parole un'altra che ho scritto è di 7500 parole un'altra è di 15 mila parole un'altra è di 12 mila parole e l'ultima che pubblicherò domani darker than night è di intorno alle 20 mila parole quindi una novella che cosa significa questo per voi qual è l'importanza del sapere quanto deve essere lungo la storia breve è importante perché ci sono degli autori lì fuori che stanno solo esclusivamente scrivendo e pubblicando in questa in una di queste sei categorie e qual è il motivo perché non c'è competizione no competizione c'è però è molto meno virulenta che per esempio se stai scrivendo dei romans o dei romans e stai cercando di me di farlo entrare nella top 100 c'è un numero che proviene da kelly tix che è una di quelle source fonti di cui vi parlavo prima un numero certo che fa presente che se voi riuscite a vendere dalle 15 alle 20 copie del per esempio di una storia breve di fantascienza o fantasy voi avete una buona possibilità di essere nella top di quella sub category categoria sottostante quindi è più facile emergere non è facile ma è più facile altri dati interessanti e importanti riguardanti queste categorie di amazon la percentuale delle storie corte che fanno più soldi sono quelle nella categoria dalle 44 alle 100 pagine quindi stiamo parlando di novellette e novelle non necessariamente di storie corte un'altra cosa interessante un numero interessante emerso da kelly tix è che il 28 per cento dei libri sul kindle store sono nella short categoria in una di queste categorie qua stiamo parlando di quasi il 30 per cento quindi è un bel po però per le persone che stanno pensando e allora tutti scrivono in questa in questa categoria si è quasi un terzo delle persone che pubblicano sul kindle store ma c'è un'altra che è un altro numero che vi farà pensare perché di questo 28 per cento le short read quindi letture che provengono da una di queste sei categorie di cui vi ho parlato lo short read rappresenta solo il 7 per cento dei top 24 mila titoli nel kindle store che cosa significa questo vuol dire che la maggior parte di questi titoli storie corti non vendono neanche una copia e questo per quel motivo può essere diversi motivi magari la copertina non è a tema la storia non è buona le persone che pubblicano non hanno una piattaforma che riesce a spingere magari i primi giorni una vendita non è importante necessariamente saperlo perché l'importante è sapere che ci sono un bel po di possibilità inutilizzate in questa categoria e poche persone ne stanno parlando ma è una categoria in cui come avete visto dei numeri molte persone provano a scrivere ma non provano a scrivere qualcosa di serio questo è quello che sto cercando di dire le possibilità sono tante tante ma non sembra che molte persone stiano spingendo l'acceleratore su questo punto di vista e lo capisco anche perché se le persone vogliono fare soldi diciamocelo chiaramente una persona cerca di scrivere magari dei romanzi molto ma molto lunghi per fare in modo grazie a raffaella e alberto per il sostegno sulla chat scrivono delle storie lunghe perché magari mettono nel loro epic fantasy di 200 mila parole su kindle unlimited e loro vengono pagati per pagine lette quindi è ovvio che un lettore che si legge tutto quella big fantasy riceve magari 6 7 dollari mentre una persona che legge una novella di 20 mila parole su kindle unlimited magari si fa 20 centesimi 25 centesimi necessariamente è importante considerare questo fatto quindi se siete interessati a lavori più lunghi per quel motivo siete benvenuti potete provare a fare questa cosa qui pubblicare lavori lunghi quello che sto cercando di dire che è importante per voi se siete interessati a provare questo filone narrativo a dare una possibilità alle storie corti per tutti i motivi che vi ho detto fino adesso la possibilità di scrivere lavori più velocemente il fatto che costano di meno produrli il fatto che vi danno potenzialmente una visibilità maggiore sono diverse le cose importanti da considerare una delle cose una delle sfide se volete di cui parlavo anche nel titolo di questa live è che dovete avere un certo interesse a portare avanti questo esperimento per un certo periodo io dire almeno un annetto e vedere come va a finire perché non è che potete scrivere due storie breve vedere vabbè non vendono niente e finirla così io mi sono dato come tempo un anno per scrivere 12 storie o romanzi brevi e vedere che cosa succede il mio obiettivo è diverso perché io voglio costruire una newsletter in inglese non voglio vendere libri in questo momento ma se il vostro obiettivo dipende ovviamente da quello che volete voi se il vostro obiettivo è quello di avere delle revenue o di avere visibilità la vostra strategia sarà diversa da una persona che vuole ovviamente vendere dei libri una cosa su cui voglio spendere ancora alcune parole per quale motivo in realtà secondo me è importante che voi proviate a scrivere storie brevi o romanzi brevi il motivo è questo i lettori sono più invogliati a provare autori nuovi voi se si tratta di leggere una storia breve perché finiscono subito la storia è un rischio calcolato che sono disposti a correre è mia esperienza che è molto più difficile per un lettore che si avvicina a un indie a un autore indipendente che non ha mai sentito prima leggersi un lavoro molto lungo di questa persona rispetto a un lavoro corto perché l'investimento in termini di tempo è maggiore ovviamente questa persona può decidere di abbandonare il libro a metà o un terzo però deve pagare di più anche solitamente i romanzi costano molto di più di novellette o di novelle o di storie corte quindi se vi piace pensare a questo concetto qui come dare una possibilità maggiore ai lettori di scoprirvi siete assolutamente invitati a farlo perché è vero che se una persona che ha la possibilità di leggere un lavoro che un libro, una storia corta che si legge in un sitting, in una seduta soltanto può decidere, può avere un'idea maggiore di chi quell'autore è e se gli o le è piaciuta quella storia breve sarà a suo interesse magari rispondere ad una delle call to action dell'autore che ha messo nell'ebook, magari scrivetevi la mia newsletter o comprate il successivo capitolo di questa serie è più facile quindi per il lettore rischiare autori nuovi c'è un'altra cosa da considerare se siete interessati a la visibilità o il ranking quindi la posizione nella classifica del Kindle Store delle vostre storie brevi o se siete interessati a ricavo questa è un'altra delle cose che Crystal ha detto nella sua masterclass persone che pubblicano storie brevi o romanzi brevi e sono interessati ad avere un ranking una classifica migliore rispetto ad altri solitamente mettono il prezzo di 0,99 dollari in questo caso ai loro libri perché una persona si sente le persone comprano più copie se vendono quel particolare prezzo di 0,99 centesimi è un no-brainer come diremmo qui in anglosassolandia è facile però ovviamente visto che dovete considerare che su Amazon su quei 99 centesimi fate un terzo poco più di un terzo 35% poi dovete pagare le tasse e tutte le altre cose se il vostro obiettivo invece non è il ranking quindi non è fare avere il vostro libro magari tra i primi 10 i primi 5 i primi 3 qualsiasi sia il vostro obiettivo di quella categoria ma se volete ricavare quindi se state puntando a ricavo al vile denaro qualcuno direbbe allora lei consiglia di mettere il prezzo a 2,99 per quel motivo? perché con 2,99 voi prendete il 70% di quella fetta quindi più o meno in questo caso sarebbero 2 dollari e ovviamente anche se vendete meno copie però vi fate un ricavo maggiore quindi se siete interessati al ranking alla classifica più alta considerate mettere il prezzo della vostra storia breve romanzo breve a 0,99 centesimi oppure mettete se volete il ricavo il romanzo breve è a 2,99 dollari e voglio chiudere questo discorso dandovi un'ultima cifra riguardante proprio l'autrice di cui vi parlavo nel 2017 Crystal ha fatto un esperimento e ha venduto scusate ha scritto e ha pubblicato una decina di storie brevi scusate in questo caso di novelle novelle lei scrive novelle dalle 20.000 a 25.000 parole il suo genere è romance e più specificamente little small town romance quindi dei romance che si ambientano in uno spazio confinato di solito una città una piccola cittadella quindi è una categoria sotto categoria del romance e ovviamente sto parlando di una scrittrice canadese quindi i suoi lavori sono in inglese e lei ha avuto un riscontro economico molto importante pubblicando ogni mese in quel suo 2017 è una sfida che ha fatto lei quello che ha fatto lei è pubblicare ogni mese una storia una novella nuova riguardante questa serie romance ambientata in una cittadina canadese con zero marketing lei non ha fatto nessun tipo di marketing ci ha detto nella masterclass soltanto con il passaparola ovviamente le sue azioni di autrice per per continuare a pubblicare costantemente in quell'anno una decina mi ricordo se erano 10 11 o 12 comunque lavori nel 2017 ha avuto un riscontro economico interessante riuscendo a racimolare una cifra di guadagni a 5 cifre questo è importante non solo perché in qualche modo prova quello che vi ho detto fino adesso e lei non è neanche una delle autrici o autori che sta facendo più soldi da questo punto di vista per quanto riguarda persone che si concentrano su questa nicchia di mercato specifico delle storie brevi ma anche è un rimando alle persone che in questo momento magari dicono non riesco a scrivere un romanzo è al di là delle mie capacità che se voi scrivete una storia breve o una novella o una novelletta assolutamente non vale meno di un romanzo completo questa è un'operazione mentale che facevo anche io sbagliata di classificare dal punto di vista gerarchico le storie per lunghezza e questo è uno sbaglio enorme perché ci sono moltissimi autori che si stanno pagando le spese pubblicando storie brevi novelle novellette questo è un fatto e le statistical lo provano quindi se voi domani vi sedete per scrivere qualcosa e vi scoprite aver scritto una storia breve una novelletta o una novella datevi una pacca sulle spalle perché potrebbe essere l'inizio di qualcosa di davvero importante io spero che questo episodio sulle storie brevi vantaggi e svantaggi vi abbia aiutato come sempre faccio questa è la mia sezione di vlog settimanale vi dico un pochino che cosa è successo nella mia vita di autore nell'ultima settimana buona notizia domani pubblico la mia sesta storia in inglese è un dark fantasy è un seguito di un romanzo scusami di una novelletta che ho pubblicato a febbraio in inglese si chiama not that fairy tale in italiano non è una fiaba che è tra le altre cose la storia breve che voi avete se vi scrivete la mia newsletter quindi è il seguito di quella storia lì i primi feedback che ho avuto da più di una mezza dozzina di lettori beta è molto incoraggiante talmente incoraggiante che sto scrivendo il terzo libro di questa serie di fairy tale vediamo come va a finire da quel punto di vista ho anche iniziato a scrivere la storia di luglio e non so esattamente che tipo di storia sarà spero che non sia lunga o più lunga di quella che ho scritto questo mese perché altrimenti parliamo di un altro romanzo praticamente anche se è un romanzo breve però non so esattamente come andrà prenderò qualsiasi cosa che mi capita con le braccia aperte un'altra cosa che sto facendo in questo periodo è provare Amazon Ads e vedere come vanno per quanto riguarda Italia e Stati Uniti ho incominciato a fare alcune prove nello store italiano e ho incominciato anche nello store degli Stati Uniti a sponsorizzare alcuni dei miei libri quindi magari in futuro in una futura live vi farò sapere che cosa che cosa ho imparato che cosa sto imparando ancora una volta se voi avete delle domande riguardanti questo episodio o altre cose che voi volete che tratti in episodi successivi fatemelo sapere nella sezione commenti qui sotto su YouTube e ricordatevi se volete iscrivervi alla mia newsletter di autore e sostenervi un pochino potete farlo cliccando ancora una volta quel link nella prima nella descrizione del video di YouTube e ora passiamo al rapporto settimanale le copie vendute di Lord of Time l'unico libro romanzo vero e proprio che ho pubblicato qui in Anglosassolandia scritto e pubblicato in inglese sono 112 copie vendute a oggi 29 giugno 2020 e gli scritti alla mia newsletter sono aggiunti a 907 sono molto interessato a vedere come andrà come crescerà la mia newsletter perché sembra che ci stiamo approssimando alle quattro cifre al migliaio di cifre quindi sono interessato a vedere come si evolverà quella situazione lì e per ora è tutto per quanto riguarda questo episodio spero che vi sia stato utile c'è Alberto che dice ciao manca poco agli 800 iscritti tieni duro il trovato e si avvicina grazie Alberto Raffaella io ho letto due tue storie brevi in italiano mi sono piaciute molto anche una storia breve può essere avvincente è ottimo questa è una cosa che io credo fermamente e spero che vi abbia convinto un pochino di più quando dopo che avete sentito questa live va bene allora ci vediamo il prossimo lunedì alle 8 per un'altra live fino a quel momento io vi faccio vi do un bel saluto qui dalla stranamente non piovosa Vancouver e vi do appuntamento al prossimo lunedì alle 8 ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti Grazie.